I nostri ospiti Sandro Voto e Michele Albanese, due colleghi che raccontano fatti di malaffare e per questo sono sottoscorda da questi diversi anni, ad intervistarmi, a porgervi delle domande e poi le domande saranno la collega Monica Mignale, direttore di primo numero e Giovanni Di Tota, caporedottore di Tele Molise, io sono Giuseppe Di Pietro, sono il presidente dell'associazione della stampa del Molise, componente della giunta della FNSI e quindi abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché vogliamo puntualizzare e rendere pubblici alcuni elementi che si stanno verificando nella nostra nazione. L'informazione, quella che vediamo tutti i giorni sui giornali, sulla tv, sui siti internet è sotto attacco, è sotto attacco con una serie di interventi concentrici e plurimi quindi l'attacca la criminalità organizzata perché chiaramente non vuole assolutamente che vengano scoperchiate le vicende di malaffare, le vicende che diceva poc'anzi Michele Albanese muovono decine e decine, migliaia di miliardi e che quindi equivalgono addirittura a più finanziarie della nostra nazione, è sotto attacco, potrebbe sembrare come dire una parabola, però non è così, cioè è sotto attacco dalle querele temerarie, chi fa questo mestiere si vede arrivare periodicamente pezzetti di carta perché oggi fare una querela è facilissimo, fare una richiesta di risarciamento è facilissimo, perdonate se c'è qualche giudice, poi c'è c'è qualche goto o not che giudici onorari, magistrati onorari che praticamente addirittura ne sa qualcosa la collega Vignale, ti vengono anche a sequestrare i conti correnti, ti fanno dei sequestri conservativi e quindi voglio dire c'è un sistema che non regge più, ora fare questa pressione è diventato un'impresa attua, significa stare in trincea e poi c'è un altro elemento che volevamo mettervi in risalto oggi che è quello legato alla crisi del settore e quindi al finanziamento dell'informazione, io voglio darvi un numero per far capire la differenza tra altri Stati e l'Italia, la Francia destina, la France Press che dobbiamo dire è l'unica agenzia di stampa che c'è nella nazione, però la finanza con 244 milioni di euro all'anno, quindi la fonte primaria dell'informazione francese è finanziata da 244 milioni di euro, lo Stato italiano, il governo italiano destina alle 10 agenzie o poco più italiane qualche decina di migliaia di euro, addirittura con bandi europei, mentre della Francia li ha assegnati con una legge. Ora c'è una crisi del settore, c'è anche un altro problema legato alla diffusione di internet, c'è ormai la convinzione, mi dispiace che qualche partito politico ne abbia fatto addirittura un vessillo elettorale, cioè che è quello di mettersi sui social, quello di fare propaganda, perché quello non è diffusione di un messaggio politico, quello è informazione, quindi il cittadino secondo Taluni basta che si informa su internet e ha soddisfatto la propria esigenza di avere l'informazione, no, l'informazione si ha attraverso un giornalista che è un operatore qualificato, ha studiato, sa di bilanci, sa di diritto penale, di diritto civile, sa del diritto di cronaca, sa delle leggi che tutelano le privacy e i minori, quindi non si può prelegare l'informazione professionale di qualità al primo venuto, a pari di qualsiasi altra professione, fare ingegnere, fare medico e fare la giornalista, guardate, è la stessissima cosa, anche per le implicazioni di quello che avevo detto. E allora dicevamo, torniamo a bomba, c'è un problema di finanziamento, soprattutto in un momento di crisi come questo, del pluralismo informativo. Nella cosiddetta Prima Repubblica i partiti avevano deciso che le fonti della propria parte devono essere finanziate, devono avere un contributo pubblico, perché? Perché l'informazione è un bene pubblico tutelato dalla Costituzione. Oggi tutto questo, come vi ho detto, non avviene e addirittura c'è una minaccia seria, concreta, virulenta e anche molto perniciosa nei confronti del nostro settore. Oggi noi vogliamo accendere un faro su questi temi, lo faremo, ripeto, con le domande dei nostri colleghi e chi vorrà anche dalla sala. Io mi fermo qua, voglio però chiamare il sindaco di Campobasso, anche presente nella provincia Antonio Battista, che ci ha onorato della sua presenza e al quale chiediamo un saluto ai lavori. Saluto a te, ti ringrazio per l'organizzazione, ci siamo tenuti anche in contatto in questa settimana. Ai due importantissimi ospiti, Sandro Ruotolo e Michele Albanese, tre considerazioni veramente brevissime. Sembra banale che occorra ancora parlare di libertà di stampa, che per oggi viene messa puntualmente in discussione. Quella della sottrazione dei fondi alla stampa, in modo particolare a quella locale, io la vedo come il pericolo più grande. Ci dovremmo rifare soltanto a un determinato tipo di informazione che spesso non copre, che spesso risponde alle logiche dei partite, risponde anche alle logiche dei governi che si succedono. La seconda considerazione è le pressioni, la delinquenza e quindi i grandi gruppi finanziari che incinano e fanno pressione, ma la delinquenza è quello il pericolo più grande che si alimenta quotidianamente anche con quello che sono le situazioni che poi pesano sul territorio. Queste situazioni sono ancora più pesanti perché stiamo vivendo in un periodo di democrazia digitale, dove ognuno si attrezza in qualche modo e butta lì o informazione o notizie e dietro queste notizie spesso si creano dei movimenti di opinione che non fanno certamente onore o certamente fanno piacere alla giusta informazione e alla corretta informazione nei confronti dei cittadini. Mi fermo qua, augurandovi ancora un buon lavoro, mi saluto con piacere i giornalisti Giovanni Vitota e la dottoressa Vignale, benvenuti in questa sala e seguirò per buona parte il dibattito, mi scuso ancora con gli ospiti, però degli altri impegni mi chiamano, probabilmente è meno importante, questo è un impegno importantissimo. Grazie e buon lavoro.